Conoscere e comprendere le storie umane e personali dietro alla grande storia italiana. Vivere il senso più profondo della legalità dalla voce di chi, in nome di Stato e legalità, ha visto sacrificati gli affetti più cari. Il 20 maggio, nell'auditorium dell'Università dell'Etat Libera, Lipsia Benelli ha accolto Agnese Moro, figlia dello statista italiano Aldo Moro, rapito e ucciso nel 1978. Con lei anche Giovanni Ricci, figlio di Domenico Ricci, uno degli agenti di scorta ucciso nella stessa strage romana di Viafani. Un toccante incontro organizzato dai professori Scatigno, Iacobis, Virgilio e Bocchicchio, capaci di attraversare storia, politica e cronaca giudiziaria, passando per sentimenti come dialogo, memoria e perdono. È una missione quella di Agnese Moro, quella di non derubricare la figura di suo padre all'immagine del corpo esanime, icona degli anni di piombo, ma tracciarne la figura umana, il padre, l'uomo profondamente dedito alla sua carica istituzionale. Cioè, io non mi ricordo nessun giorno in cui lui non abbia lavorato. Natale, Pasqua, Domenica, c'era sempre qualche cosa, comunque, al di là della festa, qualcosa da fare. Da anni Agnese Moro ha scelto di non rilasciare interviste a stampa e tv. Giovanni Ricci, invece, ai nostri microfoni, ha così applaudito la bontà dell'incontro al Benelli, accompagnato per l'occasione da musica e coro diretto dal professor Luigi Mariotti. Vedere tanti ragazzi che sono qui oggi a raccontarci, a raccontare, permettere di raccontare a loro che cosa sono stati gli anni di piombo, ma non solo, che cosa sono stati quegli uomini, soprattutto non quei momenti tragici, ma la vita di quelle persone. E vedere come i ragazzi assorbano questi nostri racconti, ecco, questo fa veramente piacere, perché le nuove generazioni sono il futuro del nostro paese e a loro va lasciato un segnale forte che la violenza non porta da nessuna parte, va lasciato un segnale forte di come con il dialogo si possano risolvere tanti conflitti e ringrazio l'Istituto Benelli per questa continua e importante manifestazione d'affetto nei nostri confronti, ma manifestazione d'affetto anche nei confronti della memoria dei nostri carichi, che non ci sono più, ma che ci permette, incontri come questo, di raccontare chi erano, chi fossero, come hanno vissuto, ecco, e non ridurre l'intera loro esistenza solamente al giorno in cui purtroppo sono venuti a mancare. Quello che appunto ci interessa è che i ragazzi tocchino con mano quello che è la storia, perché così oltre alla mente attivano anche il cuore, perché certe storie raccontate dal punto di vista proprio umano non possono che non toccare il cuore, no? E quando si impara anche quel cuore sicuramente saranno dei ricordi praticamente indelebili, perché dietro ogni evento storico, purtroppo in questo caso un periodo bruttissimo della nostra storia, lo stragismo, il terrorismo, ma dietro tutto questo c'erano delle persone e queste persone avevano dei figli e la testimonianza dei figli è importante, cioè per quello che è significato appunto per loro aver perso appunto un genitore per questi motivi, che poi per carità ognuno aveva i suoi, ognuno combatteva per gli ideali, però certamente Moro e i suoi compagni di viaggio, così come li abbiamo appunto definiti, ha difeso lo Stato, ha difeso la democrazia, lo Stato però non ha difeso lui e quello è stato un po' il punto della situazione. Questi incontri ci permettono di vivere la storia non solo per quello che studiamo nei libri, sui banchi di scuola non c'è un professore a raccontarcela, ma c'è una testimonianza vera e propria. Ci sono figli che hanno visto i loro padri compiere quelle determinate azioni e purtroppo venire a raccontare la loro storia per impedire che non rimangano semplicemente un nome in un libro di storia o una sorta di immagine storica, ma che rimanga un ricordo proprio vivo di una persona. Aldo Moro non era solo, sicuramente è stato un grande politico italiano, ma era anche una persona e l'incontro di oggi lo dimostra dai racconti di sua figlia stessa che fa trasparire come non fosse un super uomo, non fosse un super eroe invincibile, ma era una persona come tutti quanti noi, che ha avuto però il coraggio di combattere, di agire contro cose sbagliate invece di fregarsene e continuare a vivere la sua vita. Spero veramente che queste cose si continuino a fare, non vengano perse nel tempo e vengano sempre di più coinvolti i studenti. I ragazzi sono il fulcro fondamentale di questi eventi insieme alle testimonianze, ma le testimonianze vengono per raccontare ai studenti e per impedire che queste cose vengano dimenticate.